Senatore Rigoni, lei ha detto che questo provvedimento sulla pubblica amministrazione è pessimo e arrogante, perché? Innanzitutto perché si danno troppe deleghe al governo, si è perso l'occasione per fare una rivoluzione, per esempio in ordine alla riorganizzazione delle prefetture, secondo noi si dovranno assolutamente abolire. Cancellano la figura del segretario comunale, ma si obbligano i comuni sostanzialmente a riassumerli come dirigenti, quindi questi escono dalla porta, rientrano dalla finestra. Non ci piace la delega sui servizi pubblici locali, vogliamo ricordare che c'è un referendum sull'acqua pubblica che deve rimanere pubblica e questa delega in bianco lascia presagire qualcosa di negativo. È un pasticcio anche l'accorpamento, la cancellazione del corpo forestale dello Stato, sicuramente verrà meno il contrasto agli ecoreati, verrà meno la tutela dell'ambiente, verrà meno la prevenzione contro il dissesto idrogeologico. Questa previsione di accorpamento del corpo forestale nell'arma dei carabinieri, di fronte dalla quale nutriamo il massimo rispetto, però rappresenta un percorso scivoloso perché non possiamo obbligare a 8.000 agenti del corpo forestale dello Stato ad ordinamento civile a passare ad un'arma ad ordinamento militare. Insomma, se il buongiorno si vede dal mattino, noi vediamo che ci saranno dei risultati negativi. Basta ricordare la riforma del Rio sulle province, che deve essere una vera riforma della pubblica amministrazione sugli enti di area vasta. In realtà è un pasticcio, un fallimento su tutti i fronti e anche in tema di pubblica amministrazione. Io qui voglio denunciare la mancata promessa del Premier Renzi, che aveva promesso lo scorso anno di pagare tutti i debiti della pubblica amministrazione ai confronti delle imprese che hanno lavorato per la pubblica amministrazione. Questi stanno aspettando ancora miliardi. Nel frattempo molte imprese sono fallite.